Ok, attacchiamo il ballone, siamo chiusi, se loro si aprono, noi torniamo indietro e ci spostiamo destra, sinistra, col braccio, chiudiamo, good block, non possiamo lasciare spazio di tiro. Il tiro gli deve andare, il corridoio deve essere solo sul portiere, sull'entrata, se fanno l'entrata abbiamo detto accompagniamo, lo prende e poi questo che si apre lo andiamo ad attaccare, andiamolo ad attaccare e poi subito prendiamo questa uscita da posizione 4, col pallone che vola, questo non ci andiamo a bilanciare molto, ok, e questo va sul difensore, non ci bilanciamo molto che non passa il pallone al centro, ok, classico questo, ripeto velocemente, se vanno a fare il giro da questo lato, lo accompagna, lo prende questo e questo si avvicina per prendere la consegna da questa, e qui andiamo forte, per un posto ci scaliamo, tutti per un posto scaliamo, noi andiamo in contrattrottazione, ok, questa difesa forse armatica, in attacca.